Buonasera a tutti, benvenuti in questo appuntamento con il calendario lunare di Vervoniera. Vediamo insieme il taccuino di sabato 4 maggio 1991. Il sole sorge alle 5 e 12 e tramonta alle 19 e 29. La luna, ultimo quarto, si leva alle 1 e 49. I santi di domani sono San Ciriaco Vescovo e San Floriano. Auguri di buon compleanno tutti nati il 4 maggio. L'Umani, Mercati, Abar, Ponce e Marten, Natuilla, Dantei. Le amorano sguardo ad alcune mostre permanenti. A Champorchet mostra la lavorazione della Canada, mentre alla Catedrale di Aosta mostra il tesoro della Catedrale. Buon weekend a tutti!